C'è un 3-1 da ribaltare al Bentegodi? Sì, abbiamo un unico risultato per noi, quello di vincere con due gol di scarto, quindi ce la metteremo tutta. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno. All'andata non le conoscevamo, adesso sappiamo qualcosina in più e stiamo lavorando per mettere in difficoltà, per imporre il nostro gioco. Quante probabilità date di passare questo turno e soprattutto sarà importante avere anche il sostegno del pubblico, anche se non sarà facile al Bentegodi sentirlo in uno stadio così grande? Sicuramente il pubblico farà la sua parte, ma noi dobbiamo fare la nostra, dobbiamo entrare in campo determinato per portare a casa il risultato. È indubbio che partiamo con uno svantaggio, ma con la determinazione penso che portiamo a casa la partita.